Se ti affidi alla fatturazione elettronica di Aruba, non puoi sbagliare. Grazie ai suggerimenti di compilazione, la creazione della fattura sarà semplice e rapida. E i primi controlli sulla compilazione ti segnaleranno i principali problemi. Nel caso in cui invece il tuo documento non dovesse superare i controlli del sistema di interscambio, questo ti verrà notificato sia sul pannello del servizio sia tramite PEC. Nella notifica troverai tutte le motivazioni dello scarto e il tipo di errore commesso. Nel caso di una fattura scartata a causa di una partita IVA non valida, per esempio, Il nostro servizio ti permette di correggere e inviare nuovamente la fattura entro 5 giorni dalla ricezione dello scarto, senza dover modificare data e numero. In caso di errori, comunque, puoi sempre emettere una nota di credito con un semplice clic. La nota sarà automaticamente compilata con i dati della fattura di partenza e potrai correggere l'errore velocemente in sicurezza. Vai al prossimo video per saperne di più!